L'età di 14-15 anni venivo ogni estato assieme a mio fratello a lavorare qua nell'azienda paterna e poi ho cominciato, per tre estati abbiamo lavorato per avere un motorino. Questo ci ha forgiato nell'essere sia prima dipendenti che poi a poter gestire la struttura. Questo è uno dei macchinari con cui iniziò mio nonno, ancora attualmente utilizzato è una lappatrice. Questa serve a lappare i cilindri dopo che vengono rettificati per dare la giusta lucidatura. L'azienda nasce nel 1949 da mio nonno. Lui iniziò con una rettifica motori e nel 1970 mio padre continuò con un'azienda di distribuzione di ricambi agricoli e industriali e poi nel 1998 io ho iniziato con l'attività di informatica. La Ricchetti realizza data center per medie e grandi aziende. Lo fa assieme a degli altri stakeholder, delle software house o altri system integrator perché ha basato nella competenza e nell'etica i suoi fondamenti. Il passaggio generazionale sicuramente come normalmente vive delle difficoltà, anche noi le abbiamo vissute ma le abbiamo passate. Degli studiosi paragonano a tre mesi della nostra vita, un anno informatico, quindi considerate quattro anni in un anno. Ha fatto sì che creasse delle frizioni all'inizio. Poi l'azienda crescendo parecchio in termini di fatturato e di dipendenti ed essendosi strutturata da azienda commerciale e da azienda di servizio si è ritenuto con la famiglia di voler scindere e creare due realtà. Questo per prepararci alla venuta della quarta e della quinta generazione che è già nata. Il valore dell'azienda non è l'azienda ma l'uomo che c'è all'interno dell'azienda. L'azienda è una persona giuridica che contempla all'interno una serie di funzioni e di persone, però per noi la vera differenza rispetto a tanti altri sono le persone, si parte da quelle. La lealtà e la stima deve essere un fattore comune. Più del 50% del nostro fatturato viene fatto fuori dalla Sicilia e pertanto era più logico potersi spostare fuori. Noi abbiamo voluto invece stare nel nostro territorio per cercare di cambiare il nostro territorio. Abbiamo evitato di formarci noi in alcuni settori e cercare di aiutare altre aziende che sono complementari alla nostra a potersi strutturare secondo quelle che potesse essere le best practices del mercato. Quindi cercare di innovare l'oro ed evitare di ingrandire noi. Cerchiamo prima il valore e quindi abbiamo il successo e non cercare il successo e quindi il valore. Abbiamo fatto dei progetti a livello sanitario, abbiamo fatto dei progetti anche con le scuole. Facciamo parecchie scuole alternanza lavoro, abbiamo decine e decine di ragazzi. La nuova legge di stabilità sta considerando il fenomeno dei NET, che sono delle persone che sono normalmente demotivate. Noi vogliamo attaccare un attimo questa fascia qui, dare le giuste motivazioni. Noi l'abbiamo fatto, ci siamo riusciti e vogliamo continuare a farlo anche in maniera un po' più strutturata se possibile. La fedeltà ai valori, alle persone ha dato poi il cambiamento e quindi il poter essere oggi aziende di riferimento a livello nazionale in un settore così complesso come la tecnologia. La fedeltà ai valori, alle persone che sono riusciti e vogliamo continuare a farlo anche in maniera un po' più strutturata.